Pescara-Modena, Federico Lapenna di Roma 1 col Pescara che dovrà vincere per evitare a Marco Baroni ulteriori giornate pesanti e soprattutto le critiche. Restare così agganciati al treno playoff ancora alla portata a patto che stavolta non si sbagli partita. Col Modena previste dunque palpitazioni con l'infermeria che non aiuta il tecnico, per di più al cospetto di un avversario che ha fame di punti per evitare la zona play-out. Squalificati Salamon e Melchiorri, Biarnason e Sanzovini non sono al top anche se si spera di recuperarli. Probabile che venga adottato il 4-2-3-1 provato in allenamento con la difesa composta da Zampano, Fornasier, Zuparic e Rossi, Memushai e Brugman a protezione della difesa, Politano, Biarnason e Caprari a sostegno di Pettinari. Proprio Pettinari è la certezza in avanti anche se si dovesse scegliere il 4-4-2. Le due sconfitte di fila accusate dai bianco-azzurri non permettono ulteriori passi falsi. Dopo 35 giornate di campionato invece il Modena di mister Melotti, coadiuato da Pavan, è invece tredicesimo in classifica con 42 punti, frutto di 9 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. 30 i gol realizzati, 29 quelli subiti. Si ricorda che la società per assicurarsi il maggior numero possibile di tifosi in un momento fondamentale della stagione propone curve distinti solo a un euro. Partire dal presupposto che ci dobbiamo dare una sveglia a tutti, in primis io e poi ho detto la squadra. Quindi è chiaro che ci sono delle situazioni che siccome voglio di più voglio andare a prendere anche chi magari in questo momento può avere qualcosa da spendere. Grazie. Grazie.